Bentornato nel mio canale news. Ultime notizie aggiornate oggi I due si sono conosciuti ed innamorati al grande fratello Vip ma la loro storia non è durata molto, ecco con chi è stato avvistato Manuel di recente Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo hanno iniziato la loro storia d'amore all'interno della casa più spiata d'Italia, la loro unione ha trovato l'approvazione di buona parte del pubblico di Canale 5, eppure una volta lasciato il programma il loro fidanzamento non è durato a lungo Il nuotatore ha annunciato la fine del loro legame tramite un comunicato stampa, dopo averlo scritto in un SMS alla diretta interessata Punto da quel momento Manuel è finito spesso nel mirino del gossip, per storie vere o presunte che gli sono state attribuite Stavolta l'indiscrezione che lo riguarda arriva dal profilo Instagram di Dejanira Marzano, lei, sempre molto informata sulle storie del momento, a sua volta ha ricevuto una segnalazione da una followers Bortuzzo, ecco chi è la nuova fidanzata.La ragazza che ha inoltrato la segnalazione alla Marzano pare abbia avvistato il ragazzo insieme ad una popolare TikToker, Manuel è stato avvistato nell'outlet di Castel Romano insieme a Cecilia Cantarano Il web si è subito scatenato, l'idea è quella che possa esserci del tenero tra i due ma non ci sono abbastanza elementi per non prendere in considerazione l'ipotesi di una bella amicizia Manuel Bortuzzo notizia GFVIP6.Sempre la ragazza in questione, colei che ha dato l'informazione, ha aggiunto che Cecilia Cantarano, la TikToker avvistata con il nuotatore, e l'ex Jeffino, avrebbero iniziato a seguirsi su Instagram e di recente è scattato qualche like social tra i due negli ultimi contenuti postati L'influencer 22enne è molto famosa su TikTok, conta su questo social quasi 3 milioni di follower Tempo fa ha anche partecipato ad Avanti un altro, il noto programma Mediaset presentato dal conduttore Paolo Bonolis Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video